Ma bentornati o benvenuti se siete nuovi in questo canale, in quel caso vi invito a iscrivervi. Oggi parliamo di un'oggi alla volta, esordi alla regia, di Nicola Conversa. Intanto era da tantissimo tempo che non facevo una recensione, ma in realtà era da tantissimo tempo che non andavo al cinema, credo quasi un mese non è mai successo nella mia vita, ma come potete vedere c'è stato un cambio di location nel retro che ancora è tipo orribile, ma migliorerà col tempo, perché sto traslocando, sto cambiando casa, a luglio sto presente crepando di caldo, ma sto facendo un trasloco e quindi non ho avuto veramente zero tempo, quindi farò uscire questa recensione e poi non so quando uscirà la prossima, diciamo che da settembre torniamo regolari. Ma sono contento comunque di essere riuscito a ritagliarmi questa parentesi di tempo per andare a vedere questo film, perché io apprezzo molto il modo di scrivere di Nicola Conversa, che per chi non lo conosce è praticamente uno dei volti dei Nirkiop, uno dei gruppi, insomma, più famosi di YouTube Italia. Lui poi parallelamente ha sempre avuto questo sogno di scrivere, dirigere film, di fare cinema vero e proprio, e dopo aver fatto uscire un libro, dopo aver fatto uscire diversi corti, adesso ha fatto il suo esordi alla regia, con questo un oggi alla volta. Io sono corso al cinema a vederlo, senza vedere il trailer, senza sapere effettivamente cosa parlasse il film, senza quasi avere informazioni, semplicemente perché trovo il suo modo di scrivere molto molto piacevole, perché ha una sensibilità spiccata, è in grado veramente di entrarti dentro, raccontando delle storie veramente veramente semplici, delle storie comuni, delle storie quotidiane, ma con quell'occhio, con quella sensibilità che veramente fa bene, ti fa stare bene, ecco. Per cui, sono corso al cinema fiducioso di andare a vedere un bel film, e credetemi, non mi aspettavo di vedere un film così bello, cioè, io mi aspettavo di vedere un film bello, ma non mi aspettavo un film in grado di toccarmi le corde dell'anima così tanto, tanto da farmi ci pensare, da avermi seminato qualcosa dentro, e ci sto pensando, non l'ho visto ieri, per voi che state vedendo il video, l'ho visto l'altro ieri, e ci sto ancora pensando, e sicuramente mentre voi starete guardando questo video, quindi sono già passati due, tre, quattro giorni, non so, ci sto ancora pensando, perché è una storia che, nonostante sia uno spaccato di quotidianità di due, tre ragazzi adolescenti, è qualcosa che comunque, se non prettamente quello della storia, è qualcosa che riguarda tutti noi. Di cosa parla il film? Il film parla di questo Marco, che è un ragazzo, diciamo, che crede ancora molto nell'amore, nel sentimento dell'amore, e che non trova però la sua anima in gemella, è prossimo alla maturità, ha una madre che non fa altro che pensare al fatto che lui deve fare la maturità e deve studiare, la madre tra l'altro è interpretata da Katia Follesa, bravissima. Quindi c'è questo Marco, adolescente, prossimo alla maturità, e suo fratello Andrea, che è un musicista, canta, tra l'altro interpretato da Francesco Centorame, fa veramente ridere il personaggio di Andrea, ma fa anche molto piangere. E non vi dirò altro, cioè questa frase la ripeterò molto spesso nel corso di questa ritenzione, ma arriviamo per gradi. Marco, quindi, interpretato da Tommaso Cassissa, la prima volta che lo vedo in un film, forse l'ho visto da qualche parte, tipo in qualche corto, in qualche lavoro proprio di Nicola Conversa, ma la prima volta che lo vedo al cinema, bravo, 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 soprattutto in questo ruolo, sembrava proprio naturale, magari lui è così di carattere, non lo so, ma veramente bravo. Quindi crede ancora nell'amore e durante un concerto del fratello, un concerto del fratello, incontra una ragazza, Giulia. I due passano tutta la serata insieme, lui è quasi praticamente innamorato di questa Giulia, alla fine le chiede il numero, ma Giulia le dà un numero sbagliato, le dà il numero di una sua amica, le dà il numero di Aria. Tommaso, quindi, comunque scopre che il numero è di quest'Aria, interpretato da Ginevra, Francesconi, anche lei bravissima, lei forse è la più brava in assoluto in questo film, perché ha un ruolo veramente, veramente pesante e importante. Tommaso contatta Aria, convinto di parlare con Giulia, Aria le confessa che non è Giulia, ma è Aria, i due comunque continuano a parlare e iniziano a frequentarsi. Non vado oltre, non scendo nei dettagli della trama, perché è una trama dove veramente ogni piccolo dettaglio serve per far proseguire la storia e quindi ogni piccolo dettaglio che io possa svelarvi in questa recensione rischierebbe di essere uno spoiler e non voglio assolutamente. La cosa che mi piaciuta tanto di questo film è che il film fa tanto ridere, ma veramente tanto tanto ridere, io non ridevo così piacevolmente, non con le lacrime, ma non ridevo così piacevolmente per delle scene così semplici da un po' di tempo e quindi durante i pochi momenti pensavo che per fortuna ancora oggi riusciamo a fare, c'è qualcuno che riesce a raccontare la semplicità ma con spiccata eronia e mentre stai ridendo a un certo punto piangi, perché il film alterna costantemente con questo ritmo che non ti permette di distogliere l'attenzione e di annoiarti, ma con questo ritmo sempre più incalzante alterna continuamente questi due stati d'animo, c'è la risata che ti viene dal cuore, proprio una risata che è perché stai bene in quel momento e vuoi ridere e poi la malinconia, la tristezza e il pianto. A un certo punto magari stai lacrimando e non sai se le tue lacrime siano di gioia o di tristezza, di malinconia, di qualsiasi cosa perché, ripeto, oltre alla storia principale il film tocca vari temi tra cui il sentirsi costantemente in ritardo, sentirsi costantemente affannati, sentirsi costantemente senza aria. Tutti noi è capitato, capita, capiterà in futuro tante volte di sentirsi affannati, a in primis è capitato tempo fa, di sentirmi in competizione con nessuno ma con tutti. Abbiamo tutti questa sensazione di stare costantemente in competizione col mondo, di sentirci in ritardo, di vedere i successi degli altri e focalizzarsi sugli insuccessi che abbiamo noi. E il film mette molto in risalto questo concetto che, se lì lo fa vedere attraverso gli occhi di un adolescente, in realtà è un concetto che riguarda un po' tutti, riguarda bambini, adolescenti, adulti, anziani, riguarda veramente tutti. Tutti abbiamo questo affanno di dover per forza essere, preprimeggiare, essere lì, essere al posto giusto. E quindi quando va a toccare tutti questi momenti insieme alla storia, quindi parallelamente alla storia principale, non puoi far altro che riflettere, guardarti dentro e commuoverti, emozionarti, piangere, piangere ma da dentro, quel pianto che è angoscioso all'inizio, proprio di quello che ti stringe il cuore, ma che è liberatorio dopo. Ed è liberatorio a tal punto da farti, da permetterti poi di cogliere l'ironia e ridere di nuovo. E questa alternanza di sentimenti in questo film a me è piaciuta veramente, veramente tanto. E poi c'è una canzone bastarda, l'unica, l'unica canzone che veramente del film, si chiama Aria, che è una droga, probabilmente la trovi anche su Spotify, c'è quel fischiettio iniziale, veramente ti entra in testa e non te la levi più per tutto il film e per anche i momenti dopo. È una cosa che non ti levi dalla testa. E quindi bello, 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 sono veramente, veramente contento di essere andato a vedere questo film. La ragazza che fa Aria ha un ruolo pazzesco verso la fine, perché poi il film possiamo dire che si divide in due atti. Tutto il primo tempo rindi un sacco, tutto il secondo tempo piangi un sacco. Se nel primo tempo Marco, quindi Tommaso Cassissa, dà il meglio di sé, nel secondo Ginevra, Aria, dà veramente il... credo faccia proprio... se già il film è alto, nel secondo tempo, grazie a questa interpretazione, sale ancora di più, perché lei è veramente, veramente brava. Il suo ruolo non è per niente facile. Anche lei non aveva mai visto, non so se il suo esordio, non so se ha fatto altro, ma pazzesco. Veramente un cazzo è scelto bene, è un bel film perché la storia regge, perché i personaggi sono credibili e perché i sentimenti sono autentici. Quindi sono veramente, veramente contento e per essere un esordio alla regia, per me è un esordio veramente azzeccato. Io comunque non posso fare altro che ringraziarvi per aver avuto la voglia e la pazienza di guardare anche questo video, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e vi invito anche a lasciare un like al video perché per me è davvero, davvero importante. Fatemi sapere inoltre con un commento qua sotto se avete visto questo film, se conoscete Nicola Conversa, se conoscete Nilsk, insomma se questo film vi è piaciuto fatemelo sapere, ma con tutti i commenti no spoiler, altrimenti se vogliamo parlarne tranquillamente potete come sempre seguirmi su Instagram o TikTok, contattarmi lì e lì ne parliamo senza fare spoiler a nessuno. Scusate l'assenza, iscrivetevi comunque ai miei social perché arriveranno tante recensioni e il tempo di sistemarmi un attimo, ma io comunque vi aspetto al prossimo video, daie!